Buongiorno, questo è il prodotto che arriva in una bellissima scatola elegante, ci sono tutte le taglie disponibili quello che è degno di nota è che il prodotto è realizzato totalmente in Italia i materiali sono ottimi, ovviamente l'avevo già aperto prima quindi avevo già tolto il sacchetto altrimenti arriva nel sacchettino di plastica non è il primo prodotto che compro di questo marchio la prima volta che ho comprato un prodotto che era una sciarpa non conoscevo assolutamente il marchio sono andato un po' sulla fiducia, cioè più che altro speravo fosse una cosa decente si è rivelata essere una cosa fantastica, nel senso che il rapporto qualità prezzo era eccellente di conseguenza ho deciso di comprare altre cose, ho preso altre sciarpe, questa è la prima camicia che compro sono già super soddisfatto perché si capisce che il materiale è veramente, cioè il tessuto è veramente fantastico considerando il prezzo, super soddisfatto adesso come mia con quietudine vado a fare un breve passaggio in lavatrice e poi subito a sfoggiarla grazie a tutti